Il Castello di Barberino è la location che valorizzerà il vostro matrimonio al massimo, grazie ai suoi spazi curati e accoglienti, che vi permetteranno di trascorrere dei momenti memorabili insieme a tutti i vostri ospiti. I versatili ambienti del castello possono ospitare fino a 200 invitati. All'esterno, la grande corte e il giardino all'italiana saranno i luoghi perfetti per il vostro ricevimento nella bella stagione. All'interno, invece, le storiche ed eleganti sale accoglieranno gli ospiti durante il banchetto, per poi spostarsi nel cortile della torre per il taglio della torta e nella limonaia per l'open bar. Il Castello di Barberino è offerto in esclusiva affinché possiate godervi a pieno tutti gli ambienti della location. Lo staff vi aiuterà a organizzare ogni fase delle nozze e, su richiesta, una persona potrà assistervi durante il coordinamento dell'evento. Il Castello è anche casa comunale per la celebrazione del rito civile con valore legale. Un'occasione unica per pronunciare i fattidi così e festeggiare con gli amici in un'unica location da sogno. Il Castello di Barberino vi permetterà di contrattare il vostro catering di fiducia in modo che il banchetto nuziale sia esattamente come l'avete sempre sognato. Il personale del Castello metterà a disposizione del catering quanto necessario per offrirvi un servizio di grande qualità, collaborando perfettamente verso l'eccellente riuscita dell'evento.